E buon quel che sia, da Giardinaggio Regolare, oggi parliamo di che cosa? Di un libro. Un libro che ho letto l'anno scorso e con cui sono veramente in ritardissimo. E' questo qui, Humphrey Repton, osservazioni su teoria e pratica del giardinaggio paesaggistico, edito da Olski nel 2021. Sono in grave ritardo nel parlare di questo libro, avrei dovuto farlo molto prima. A mia discolpa posso dire che è stato accompagnato da una indicazione anche abbastanza simpatica da parte della redazione che mi ha detto, no, farlo con calma, se vuoi, se non vuoi, adesso, tra un mese, tra un anno o mai. E alla fine mi sono combinata così. Però probabilmente era il tempo che ci voleva, perché non che il libro sia difficile, il libro non è difficile neanche da un punto di vista di quello che c'è scritto dentro, dei contenuti specificamente di giardino, è che probabilmente oggi leggere Humphrey Repton ha una implicazione un pochettino più profonda, è un po' più complesso l'assorbimento, non tanto la lettura è semplicissima. Repton, come in generale tutti gli scrittori inglesi di quel periodo lì, scrive come un moderno. Sono loro che hanno in qualche modo informato la cultura saggistica di oggi, quindi siamo piuttosto noi che scriviamo come loro, in maniera lineare, semplice, con delle spiegazioni chiare, accompagnate anche da immagini dove necessario. Antri Repton è stato sì, possiamo dirlo, uno dei più grandi paesaggisti della storia. Lui, il suo collega Capability Brown, Lancerot Capability Brown, qualcuno moderno, insomma, sono è lui. Repton è il paesaggismo personificato, è una disciplina, è una è una è un'arte, una disciplina, è un mercato, è anche una politica di vendita. Repton si può dire che è un'azienda, non è un non è stato solo un paesaggista, un innovatore, ecco come si suol dire di solito, non è solo questo. Repton è la base di tutto quello che il giardino è oggi. Certo, lui prendeva, non è che è nato spuntato come un fungo dal nulla, lui stesso prendeva le mosse da quello che era la costruzione dei paesaggi in Inghilterra dell'epoca, cioè un giardino nobile, nobile ma non titolato, non necessariamente titolato, o comunque con titoli molto molto grandi, molto importanti. Cioè è un giardino fatto da persone che non lo facevano di in prima persona, cioè persone ricche, nobile, che avevano torme, torme nobile. Alla fine noi siamo sempre portati a pensare che ci fossero torme di giardinieri, queste torme di giardinieri ce le aveva solo il Re Sole, c'erano giusto avversari, sì c'era una una bella quantità di persone che lavoravano nei giardini, però non erano poi delle non erano, non è che si contrastero a centinaia in questi giardini qui, anzi erano anche concepiti con lo scopo di tenere meno personale possibile, perché meno personale significava anche meno spese, meno spese di mantenimento. alla fine il giardino se devo tenerci cento persone che mi servono magari poche volte l'anno però le devo tenere dodici mesi l'anno immobilizzate e alla fine diventa dispendioso, diventa impraticabile, diventa un lusso non solo non per nobili ma proprio per principi per re per re un lusso legale e quindi Repton inizia a raccogliere quelle che erano le suggestioni del mercato dell'epoca le suggestioni i suggerimenti proprio le le richieste e in qualche modo codificate questo non significa che fosse un mercataro era anche un mercataro ma fu probabilmente il più grande paesaggista della storia mi viene un po' da ridere perché perché questo libro leggerlo adesso nel 2021 ecco leggerlo quando è stato stampato nel 2021 e leggerlo quando 30 anni fa quando avrei voluto leggerlo e non c'era in italiano è tutta un'altra cosa perché immagino immagino come l'avrei letto nel 1991 per dire intanto con un po' di fatica perché all'epoca sì l'inglese lo leggevo abbastanza bene ma non così facilmente e e poi avrei dovuto ovviamente leggerlo in inglese questo è in italiano è la prima traduzione italiana di Humphrey Repton mi sono dimenticata di dirlo ma questa non è una recensione convenzionale la sto facendo anche un po' per me leggerlo nel 91 avrebbe implicato che indipendentemente dalla lingua mi sarei imparata tutte le cose che aveva scritto avrei fatto gli schemi avrei riproposto i disegnini gli schemi le illustrazioni che ci sono la pecora le prospettive i giochi prospettici avrei poi sarei andata a cercare nei giardini che conosco di cui posso trovare una avrei potuto trovare una delle fotografie avrei cercato poi il Repton in Gippo avrei cercato di ritrovare gli schemi di concettuali diciamo prospettici tecnici di Repton invece oggi ne raccolgo maggiormente le le suggestioni sociali anche di mercato perché poi il mercato è brutto da dire però ogni cosa che si fa anche bella poi bisogna venderla persino le opere d'arte e ovviamente il giardino non è esente dall'essere venduto perché il giardino è grande è grosso solitamente è grande è grande più di una stanza e quindi beh ho 100 giardini a casa ho i libri ho i cosi non puoi fare la collezione ecco non è che dici beh li tengo tutti sulle tagere no quindi necess success che lo devi vendere a qualcuno anzi devi vendere devi convincere qualcuno a pagarti perché faccia nel suo giardino quello hai detto tu capite com'è un po' proprio è una magia i giardini vengo a casa tua tu mi paghi e fai quello che ti dico io con le piante pensate quindi questi giardini bisogna vendere e il mercato è quella cosa brutta con cui tutti quelli che hanno fatto il mio lavoro che l'hanno fatto anche a un livello molto 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 più professionale nel senso che inquadrati professionalmente con una vera e propria azienda alle spalle si sono scontrati con la dura realtà del mercato e della vendita oggi il oggi il mercato oggi la vendita del giardino la promozione dell'idea del giardino è fatalmente cambiata dopo la pandemia in realtà era cambiata molto prima ma la pandemia ha solidificato questo cambiamento e ha annientato ha zerato anche le preoccupazioni di un esito artistico valido laddove ci sono pensieri più impellenti l'arte e il bello è sempre quello che ne fa le spese per primo per primo prima della giustizia prima di ogni la prima vittima sempre nelle crisi è la bellezza è la cultura l'arte l'indulgenza verso il cosiddetto cibo per l'anima si priva lo spirito prima della carne del nutrimento noi siamo animali di grande capacità culturale siamo animali culturali quindi memorizziamo accumuliamo facciamo le scorte come gli orsi di cultura per anni ci basta per anni dopodiché la esauriamo e abbiamo bisogno di ricarica di nuovo cibo e quindi il bello è quello che più facilmente sacrifichiamo perché ne abbiamo un po' i cuscinetti invece dei cuscinetti di grasso abbiamo i cuscinetti d'arte va e quindi attingiamo a quella a quella riserva lì poi ovviamente li esauriamo e abbiamo e ne dobbiamo mangiare ancora quindi ci torna poi la fame di bello la fame di socialità la fame di gioco la fame di spensieratezza ci tornano questi appetiti la pandemia ha quindi solidificato l'ingresso sulla scena di un giardino che non è neanche più un giardino un giardino che è solo un insieme di piante non è neanche il giardino dell'architetto quello che si chiamava così durante gli anni 80-90 il giardino che veniva fatto insieme alle case degli anni 70-80 con gli alberi gli alberi da frutto prevalentemente gli agrumi le siepi verdi insomma che riecheggiava comunque il neoclassico perché poi quello è lo stile che è anche più comodo da un punto di vista sia formale che molto adattabile il neoclassico chi dice ma non si presta il neoclassico non vi preoccupate il neoclassico si presta le villette davanti alla ferrovia si presta a qualsiasi cosa il neoclassico invece si presta è proprio lo stile che si presta più versatile quindi questo stile neoclassico a cui è più facile attingere anche perché è quello che su cui noi impalchiamo la nostra la nostra cultura è anche uno stile deciso e abbastanza recente quindi con qualche accenno alla modernità per esempio le sfere di di cemento che qualcuno magari dà a casa nel suo giardino quelle sono ecco vestigia del del neoclassico trasferito nel nel novecento trasferitosi poi nel novecento in Italia in questo ebbe grande ruolo il futurismo e anche Pietro Porcinai un personaggio un paesaggista di grande spessore che purtroppo in Italia conscia o poco quindi ecco non è neanche quel giardino che abbiamo oggi che si fa oggi non è neanche quel giardino lì che aveva anche qualche qualche piacevolezza sua peculiare perché era disposto ad angolo aveva una stranezza un qualcosa no c'era un albero cresciuto no è un giardino identico al giardino precedente e successivo è un giardino fatto con sketch up è il giardino sketch up è il giardino fatto con i programmini con le applicazioni con il cut con i rendering che importi l'album delle piante la cartella delle piante mettimi questa pianta applicazione computer salve computer e mettimi questa pianta qui mi serve un albero 5 metri vai ecc quanto altro lo vuoi come lo vuoi quanti anni me dai il giardino per carità tutte queste applicazioni sono ormai insostituibili per costruire creare ecc vanno utilizzate con un certo con una certa capacità creativa altrimenti rendono tutto semplicemente omologato anche questo per esempio capita molto spesso con i webtoon con le anie che hanno tutti gli stessi fondali ma sono proprio gli stessi nel senso che sono 4-5 posti mi ha detto un'amica che girano e vanno a fotografare questi posti perché devono fotografare l'hotel di lusso e vanno lì devono fotografare il c'è serve per esempio come fondale il grattacielo che so e vanno a fotografare sempre lo stesso grattacielo e quindi avrete sempre lo stesso giardino sempre lo stesso fondale sempre il giardino webtoon coreano il giardino reference vai su pinterest e trova la reference trova la reference l'altro giorno cercavo cercavo una figura c'è digito l'avevano disegnata tutti ho detto e cioè sono andata nel posto dove tutti vanno a cercare la reference si dice così non si dice più riferimento no riferimento fotografico ma reference e quindi tutti fanno fate lo stesso disegno e buona buonasera perché io non no voler invece voglio qualcosa di diverso alla fine se non so disegnare mi serve non so disegnare per esempio il procione mi servirebbe il riferimento del procione non ce l'ho il procione a casa mi dispiace e quindi devo cercarlo da qualche altra parte lo cercherò non su pinterest in qualche altro luogo sperduto del web in un libro in un'enciclopedia degli animali quindi Repton è la reference di tutti chissà come come l'avrebbe presa lui ma non credo che gli sarebbe fregato più di tanto se devo essere sincera e quindi il giardino il giardino di oggi è così si sposta la cicas col mouse come prima d'altra parte si spostava col trasferibile però anche il semplice fatto di doverla spostare con un trasferibile o con la sagomina c'erano i normografi con le sagamine doverla disegnare ma dover ricominciare da capo dover cambiare foglio cancellare eccetera forse implicava un maggiore studio un mezzo ecco l'importante è questo che il il mezzo rimanga il mezzo e non il fine e quindi che il giardino sia pensato e disegnato avendo in testa un ragionamento ecco un'idea del come deve venire finito non un procedimento che porta a un finito qualunque a una composizione qualunque d'altra parte è impensabile che un progetto possa essere gratuito ecco adesso permettetemi una parentesi il bivaio che dice ti vendiamo le piante il progetto te lo facciamo gratis non vi sta certamente vendendo granché di progetto qualsiasi cosa che viene alienata gratis che viene data gratis soprattutto che abbia che ha a che fare con le doti creative quindi uniche peculiari ripetibili dell'individuo viene ceduta gratis allora non è tanto unica ripetibile peculiare e individuale è una cosa un po' di serie probabilmente si parte da un progetto basico prezzo standard piante 5000 euro e poi si si sposta appunto con il mouse qualcosa chi vi dice vi regalo il il progetto se ti compri le piante non vi sta dando un grande progetto può darsi che a voi non serva un grande progetto quindi perché no prendetevi le piante col progetto gratis poi se volete fare qualche cambiamento o lo farete o non lo farete o lo faranno le piante stesse semplicemente morendo o vegetando o prosperando questo è come se Repton in qualche modo lo lo avesse già fosse tutto dato per scontato questo fatto leggendo questo libro che lui sapesse come si suol dire conoscesse molto bene la clientela io a questi devo vendere questo a questi altri devo vendere questo ma non per farmi i soldi anche perché Repton era uno a cui i soldi piacevano un po' come a tutti però non l'ha mai celato ma soprattutto era uno che aveva a cuore il proprio lavoro mi dice qui ci metto la faccia e questo deve uscire bene perché altrimenti io ci faccio prima di tutto la figura del miserabile del venditore disonesto una figura antiprofessionale e dopodiché gli altri clienti se ne vanno da qualche altra parte perché all'epoca sua iniziava ad esserci la concorrenza proprio di questi vivai che perché c'erano i vivai all'epoca che vendevano il che non avevano un progetto non avevano un progettista o avevano un giardiniere che più o meno copriva un po' come i garden center di oggi che copriva un po' tutte le figure che faceva un po' il factotum quindi ma io ti devo vendere qualcosa di buono perché poi così tu mi vieni a cercare perché dopo tu parlerai bene di me e io la mia figura professionale avrà risalto questo è un ragionamento lucido lineare molto onesto perfettamente inquadrato nel suo periodo storico perciò Repton è veramente il alfa e l'omega devo dire del del giardino cioè in questo libro c'è tutta la storia del giardinaggio avvenire del giardino del giardino avvenire ecco scusatemi perché spesso si dice storia del giardinaggio la storia del giardinaggio è una cosa l'insieme delle tecniche delle pratiche delle attività che servono per creare un giardino o comunque per curare le piante mentre la storia dei giardini è un'altra un'altra cosa e quindi qui basterebbe cambiargli adattarlo no è molto elastico è come è come una coperta che invece di essere troppo corta di sopra e di sotto è estremamente elastica e prende la forma del giardino in cui viene viene posata e Repton Repton la prende questa forma qui si adatta perfettamente questo è questo è solo lo sapete è solo dei libri immortali dei pensieri immortali delle cose grandi e delle cose belle e quindi grazie zio Humphrey di aver scritto questo libro perdonami di non averlo letto quando ero ragazza l'ho letto adesso da vecchia sei un grande zio Humphrey un grande